Ciao, sono la maestra Sabrina e insegno alla scuola primaria Villa San Lorenzo nel primo comprensivo di Sesto Fiorentino. Per l'estate coi libri volevo presentarvi Occhio agli Egizi, un fantastico libro per chi ama un po' scoprire, è un po' archeologo come me. Questo libro è munito anche di una lente di ingrandimento per andare a scoprire alcune cose all'interno di queste pagine fantastiche, perché questo libro racconta, spiega, ma anche ci fa fare dei giochi per conoscere meglio questi meravigliosi egizi che tanto ci affascinano. Oggi vi leggo un pezzetto che si intitola Morte e mummie, chi non conosce le mummie? Le prime mummie egizie furono realizzate per caso, da secoli i morti venivano sepolti in fosse poco profonde nella rovente sabbia del deserto, che prosciugava rapidamente i corpi conservandoli per centinaia se non migliaia di anni. Via via che la popolazione diventava più ricca, i morti cominciarono a essere deposti in ceste o in bare di legno per proteggerli dagli animali. Ma la salma, quando non era a contatto con la sabbia, si decomponeva. Convinti che i defunti avessero bisogno dei loro corpi nell'aldilà, gli egizi cominciarono a trovare un metodo per conservarli, la mummificazione. La eseguivano i sacerdoti asportando gli organi interni e ricoprendo il cadavere da un sale in atron. Il corpo veniva lasciato sotto sale per 40 giorni a essiccare, poi i sacerdoti vi versavano sopra oli profumati, resina e cera d'api. Infine lo avvolgevano in strisce di tessuto, sempre più dure e rigide, man mano che la resina si asciugava. Ecco, all'interno di queste pagine possiamo cercare con la nostra lente alcune delle cose necessarie alla mummificazione, ad esempio l'uncino che serviva per togliere il cervello dalle narici per poi gettarlo via perché non serviva, oppure i vasi canopi dove venivano inseriti gli organi invece da conservare. Bene, sta a voi leggere, scoprire e ricercare. Buona lettura e buona scoperta!